Se una cosa mi deve dare il denaro è zero stress e solo soddisfazione La spesa più folle che hai fatto, se l'hai fatta nella tua vita, è quella più inutile Folle? Qual è la definizione di folle? No, folle non per forza per cifra, cioè per costo della cosa, ma folle per il rischio perché magari è una cosa un po' tardata Ma io rimango ingegnere, quindi molto critico e io cose folle non le faccio Zero? Ok No, io ho una bici, in certi momenti è costata più della macchina con cui andavo in giro Ma perché la macchina mi interessava poco, la bici invece mi piace molto di più come tipo di... Adesso voglio andare a vedere la moto GP lato box per dire, quindi vuol dire che è una spesa importante Se non lavoro, se non sto con la mia famiglia, se non vado in bici, guardo le moto Ok, i motori Quindi i motori, a me piace questo, quindi voglio vedere l'esperienza e quella sarà una spesa importante Non è lato tribuna, ma è andare proprio nella pit lane La vera mia spesa folle potrebbe essere dieci volte tanto, cioè non è... Beh, non lo dico per vantarmi, perché è per dire che comunque è un folle nel non guardarci Ma dal punto di vista numerico si va bene Sì, 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 tu dici alla fine dei conti Io le spese folle non ne faccio, cioè non le faccio perché ho fatto questo ragionamento sul tema valoriale Quindi il concetto è, io credo molto nello spendere in modo intenzionale Cioè io straspendo dove mi dà felicità Ho fatto la settimana bianca con i miei figli, con mia moglie, è stato bellissimo Ho speso un bel po', lo rifarei domani, emozioni uniche In altre cose non mi danno felicità, ma perché? Me li tengo come fondo per l'emergenza dell'azienda Che comunque devi anche considerare che sei esposto a dei rischi Quindi non vuol dire che non potrei farlo Lo potrei fare, ma non mi dà niente, quindi evito Ma questa cosa che di spendere in modo intenzionale È un po' quello che cerco di trasmettere anche io col mio canale Che cioè gestire i soldi e risparmiare Seppur appunto sei dipendente, quindi hai un limite Non vuol dire fare solo sacrifici No, perché non reggi, non reggi Perché non reggi, poi arrivi a un certo punto dove esplodi E fai la spesa folle Che poi magari ti mandano, dico gambe all'aria Ma ti rovini i piani Ma è semplicemente decidere dove li voglio mettere So che è quel tot Quali sono le cose importanti per me Che mi danno valore e tutto E decido dove metterle Quindi lì ognuno ha un po' la sua visione Ti piacciono i nostri contenuti? Ma non hai mai avuto il coraggio di contattarci? Siamo una società di consulenza E formazione finanziaria Prenota un appuntamento conoscitivo gratuito Con un tutor di Piano Finanziario Prenota ora su pianofinanziario.it Slash informazioni Inutile? Neanche quella Spesa inutile? Ma inutile cosa è inutile? E' una cosa che dici che non so La volevi, l'hai presa e dopo dici Ma come la potevo evitare? Ma ecco, io sposo molto Non sono un minimalista Ma mi piace molto il minimalismo Ok Io non sono minimalista Cioè ho due bici, una moto Non posso dire che sia minimal Però ci penso molto E quindi dico Ma sta cosa se la devo usare due volte Davvero Io sono stra favorevole l'affitto E l'affitto delle cose Prendo Mi danno quello che mi devono dare Anche perché non voglio Lo stress del possesso Se una cosa mi deve dare il denaro E' zero stress Solo soddisfazione A me deve dare questo Quindi invece mi accorgo Che anche certi investimenti Ad esempio il tema immobiliare Apro una parentesi Ma ha un senso C'è associato dello stress Cioè la gestione Paradossalmente lo stress Dei mercati finanziari Io non lo sento A me deve dare queste cose Quindi io decido In modo coerente A questi due valori Zero stress E soddisfazione massima In ambito esperienza Tipicamente Cioè le esperienze Sono quelle su cui spendo di più Perché sono quelle che Sì Soprattutto con la famiglia Con gli amici E' un po' più difficile adesso Perché tutti Con figli E' una fase in cui Poi diventeremo dei cinghialoni A 50-60 anni Compreremo di nuovo Tutti la moto E torneremo a fare Ok come ai 25 anni Oggi è una fase In cui è più famiglia ovviamente Quindi Non c'è niente di folle Perché ci penso molto E piuttosto Sarà anche perché I miei genitori Mi hanno tirato su così Dico vabbè Se devo usarlo una volta Non la compro Mi rendo conto Che è molto atipico Questo è un modo di ragionare Mi confronto con Il mio socio immobiliare Per Luigi Anche lui ha avuto Una famiglia Che l'ha tirato su così Con valori molto simili Per questo siamo molto amici E anche lui a volte dice Ma perché Che pagare uno Per fare sta cosa La faccio io Basta Cioè ma potrebbe Hai capito Sì 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 Però secondo me Il concetto è proprio questo Non arrivi alla solidità finanziaria Se non hai questo atteggiamento Ma secondo me Il principio importante Di questo ragionamento È che Non è che perché Me lo posso permettere Allora lo cuore No certo E questo secondo me È proprio Assolutamente Io la presuppa sportiva Non ho fatto valutazioni Di fattibilità dell'acquisto Di adeguatezza dell'acquisto Se la compro Cioè un acquisto È uno scambio Di soldi Per che cosa Per un oggetto L'oggetto perché lo compro Per guardarlo No lo compro per usarlo E se lo uso Cosa mi deve dare Mi deve dare Verosimilmente soddisfazione No E allora io Ci penso costantemente A questo scambio Nel senso che Mi deve dare soddisfazione Altrimenti Ma perché fare Sicuramente non per impressionare Altre persone Di cui non ho Non ho interesso Di mostrare Un'altra cosa interessante Che mi è venuta in mente Adesso pensandoci invece È che Nonostante Tu abbia magari La possibilità Di fare determinate cose Però il discorso che mi dici Cioè di pensare Se mi serve O quante volte Sì è più un tema valoriale Del processo di analisi Dell'acquisto Sì 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 No questa è Una cosa interessante